Manca ancora più di un mese, ma si respira già area di magia al Teatro Romano di Gubbio. Il 15 agosto è di fatti in programma il balletto Song of the Mermaid, evento di caratura internazionale che rientra nella stagione estiva degli spettacoli al Teatro Romano. Letteralmente si può tradurre con il canto della sirena, con ispirazione carpita dalla celebre favola di Anderson. E a mettere in scena lo spettacolo sarà la K-Hearts Dance Company Ballet, la più importante compagna di danza coreana, applaudita nei teatri di tutto il mondo, dal Kennedy Center di New York ai teatri di San Francisco, Tokyo, Pechino, Parigi e Londra, che per la prima volta si esibisce in Italia per un repertorio di spettacoli che spaziano dal classico al contemporaneo fino alla danza tradizionale coreana. E a nove era circa 50 ballerini che hanno ricevuto importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. L'organizzazione dell'evento è curata dal Seoul Concert Management, in collaborazione con Christina Park, presidente dell'Accademia Musicale Internazionale Vissi d'Arte e Vissi d'Amore, che oltre a darci alcune anticipazioni sullo spettacolo, è al lavoro anche per un progetto artistico-culturale che possa integrare Gubbio e Corea del Sud. E' questo spettacolo che vi regalerà una serata un po' diversa perché è pieno di luci e poi sono ballerini del professione, lavorano 8 ore, 10 ore al minimo, quindi praticamente vedrete che una disciplina è molto dura dietro di questo spettacolo, ma sono bravissimi, quindi goderete una serata molto particolare e professionale. Io vorrei portare un gemellaggio e poi scambi culturali, specialmente i Gubbini che vengono un po' in Corea anche di vedere una città moderna ma molto anche di antico e di storia proprio di arte. E più anche tanti coreani che non conoscono ancora di Gubbio, quindi possono venire tanti ma non solo artisti ma anche un po' di turisti e così possiamo arrivare a uno scambio culturale e più anche turistico. Un evento che oltre a rimarcare l'attitudine Gubbina ad ospitare spettacoli di rilevanza mondiale sarà gratuito per i ragazzi delle scuole cittadine e avrà fini solidali con una parte del ricavato che andrà all'associazione Spiritollus e al canile comprensoriale di Ferratelle. C'è questa apertura internazionale, in questo caso con un balletto coreano di elevatissima qualità e quindi di livello internazionale. Avremo anche un altro grande appuntamento che è quello in collaborazione con il Sudafrica che vedrà la presenza dell'ambasciatore, anche lì ci sarà un omaggio a Mandela, quindi una grande operazione culturale. Ma questo del balletto peraltro si colloca anche in un contesto, quello appunto della nostra realtà che vede tante scuole di danza, vede tanta attività nel campo della danza sia moderna che classica, tante ragazze impegnate in questo senso, quindi devo dire che è una risposta anche a questo tipo di aspettativa. L'evento è importantissimo, abbiamo coinvolto un po' tutte le associazioni e ci hanno risposto veramente con molto entusiasmo, per cui siamo fiduciosi sulla presenza, anche perché oltre allo spettacolo che deve avere una certa risonanza, parte del ricavato verrà devoluto a favore della Spirit e del Canile di Gubbio, per cui crediamo veramente che sia un'azione meritoria anche questa, per cui vi aspettiamo numerosi il 15 agosto al Teatro Romano.